Il premio Nobel 2023 per la chimica riguarda un po' anche l'Italia. Il riconoscimento che l'Accademia Svedese ha attribuito a tre noti scienziati riguarda la scoperta e la sintesi dei punti quantici, ovvero i componenti più piccoli finora scoperti nel mondo delle nanotecnologie. Una tecnologia che nel cuore del Veneto ha dato vita a un prodotto innovativo. 40 anni fa sono state inventate le prime nanotecnologie, in particolare dei nanocristalli che si chiamano quantum dot. Oggi sono presenti nei televisori, sono presenti in molte tecnologie anche di diagnostica molto importante e sono l'ingrediente base del mio brevetto principale. E quindi sono contento che siano stati premiati gli inventori dell'epoca e noi godiamo di questa notizia importante. Già da 12 anni siamo in commercio con un dispositivo a base di quantum dot, perciò è una grande gioia e una conferma anche che siamo sulla strada giusta. Un laser indossabile dalle persone che ha quale scopo? Lo scopo è nutrire il corpo soprattutto in punti molto particolari scelti dal medico o dal terapista e proprio in funzione del fatto che siamo carenti di luce, di terapia luminosa per lo stile di vita al chiuso che abbiamo. Mettere un nutrimento di tipo laser su punti nevralbiti del corpo si è svelato negli anni avere grandissime potenzialità. Stiamo parlando di terapia luminosa, quindi non di qualcosa che è al di fuori dall'ambito delle cure ufficiali, ma qualcosa su cui ci sono già 135.000 pubblicazioni scientifiche. E anche noi abbiamo condotto i nostri studi per dimostrare che nutrire il corpo con luce laser terapeutica in diverse lunghezze d'onda è utile a trattare il dolore, aiuta a dare più energia, a lavorare sull'emotività e anche su alcuni disturbi neurologici importanti. Sono molti gli atleti provisionisti che ne fanno uso in diverse discipline. Abbiamo una serie di brand ambassador, quindi abbiamo Asia Zenere nella nazionale di sci, abbiamo Antonelli nel calcio, abbiamo Andrea Pasqualone nel ciclismo. Molti atleti lo usano. Quest'anno è andato su tutti i giornali, si è visto dalle foto e da tutti i giornali che anche Giocovice ce l'aveva sul petto. Abbiamo tantissimi atleti, tantissime squadre, c'è molta riservatezza ovviamente su questo e abbiamo dimostrato scientificamente che usare questa tecnologia è un migliorativo per i tempi di recupero dell'atleta, per la forza muscolare, per una serie di ragioni ed è un ausilio fisioterapico direi ormai indispensabile per competere ad altissimi livelli. Applicazione importante anche in una malattia complessa come la sclerosi multipla. Si è visto che nutrire, cioè dare questo impulso laser su alcuni punti del sistema nervoso, del midollo spinale e del sistema vagale, migliora la comunicazione tra il sistema nervoso centrale e i recettori, con conseguenza di un migliore movimento. Non stiamo parlando di una cura, ma stiamo parlando di un'importante riduzione dei sintomi dei limiti di movimento che questi malati hanno e abbiamo già anche in questo caso diverse pubblicazioni scientifiche a riguardo, dimostrando questa funzione e stiamo ancora lavorando intensamente in questo campo.